ci sediamo a fianco del tavolo appoggiamo il gomito con il braccio abdotto di circa 70 gradi da qui col gomito flesso 90 gradi spingiamo verso l'alto utilizzando un elastico rigido o anche una cintura può andare benissimo legniamo la spinta 45 secondi ci fermiamo e ripetiamo il tutto cinque volte grazie grazie